La disposizione del direttore generale della ASLA del 3 luglio scorso di accorpare i due blocchi operatori per aumentare le ore di sala e ottimizzare le risorse non trova d'accordo i 50 infermieri che lavorano a fianco dei chirurghi del Vito Fazzi. Ieri mattina i rappresentanti sindacali hanno indetto una riunione sul tema. Il modello organizzativo proposto non risponde ai requisiti minimi di sicurezza, spiega Antonio Tarantino della Will Funzione Pubblica. Secondo infermieri e medici alcuni protocolli parlano di ventilazione forzata in sala operatoria fra un intervento e l'altro ma se si trasformano i blocchi operatori in una sorta di catena di montaggio dell'attività chirurgica non ci sarà il tempo di sterilizzare le sale e quindi potrebbero aumentare i rischi di infezione. I sindacalisti inoltre non accettano che la decisione di accorpare i blocchi operatori sia stata presa senza consultare le loro organizzazioni. Non è vero che nei mesi estivi l'attività delle sale operatorie diminuisce. Noi siamo disponibili ad una concertazione, dicono medici e infermieri, per lavorare meglio e non sotto pressione.